e ben ritorno di ragazzi questo è un video video io sono Nino Panino e oggi siamo in un video speciale si perchè io sono la skin da hacker si e poi perchè sono su minecraft non c'entra niente minecraft ragazzi non c'entra oggi siamo in una top 10 giochi android che ti piaceranno sicuramente tantissimo perchè sono veramente fighissimi di tutti i tipi offline online e ne sono sicuro ti piaceranno veramente tantissimo allora sono nella mappa di presentazione dell'everest sono su minecraft soltanto per presentarmi sicuramente siccome non voglio uscire con la faccia esco con la skin da hacker se non avete visto il video dell'everest andatevelo a vedere perchè è anche abbastanza bello io che scalo l'everest insieme al mio carissimo Alfred Pane link in descrizione e ricordatevi di iscrivervi al canale che è molto importante perchè se non l'avete fatto non continuo il video eh ragazzi aspetto conto fino a 5 e se non siete ancora iscritti conto fino a 10 1 2 3 ok 5 dai 20 ok avanti ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un pollice in su se vi è piaciuto il video e scrivetemi nei commenti quale gioco vi è piaciuto di più e ciao e ci vediamo nella top 10 che ora vi mostro iniziamo con impostor hide un gioco semi horror aspetta basso l'olume perchè questo c'è una musica inquietante ma di un'inquietanza un gioco per esempio online e offline potete giocarci a livelli e multiplayer in questo gioco non ci giocano in tanti ma è un gioco per esempio among us però invece che among us ci sono i gattini perchè sono carini c'è i gattini c'è e multiplayer il bello è che ci sono devi fare le tasche in solitario c'è dico in in offline e 3d come vedete c'è terza persona c'è persona o prima persona come potete scegliere voi qua c'è la mappa ed è in questo è il livello solitario cioè offline che dovete fare le tasche ecco c'è un come dire un assassino un assassino normale c'è dico un robot che dovrebbe spuntare le tasche sono molto molto uguali a quelle di among us si tolgono così e l'assassino non l'ho ancora trovato l'obiettivo è fare tutte le tasche e se in multiplayer fare aaaah eccolo lì l'assassino e quando si muore c'è una scena bellissima come secondo gioco andiamo su ganath down un gioco western di multiplayer soltanto multiplayer con dei disegni veramente anche fighissimi veramente bellissimi che è un gioco ah c'è l'update il gioco è molto semplice è una gara tra due è un duello dove la gente si deve sparare e il primo che muore vince ci sono tanti anche sono tanti duelli c'è oddio questo qua maledizione c'è ci sono tanti tipi di due c'è tre in verità è uscito da poco direi non tantissimo e secondo me ve lo consiglio veramente tanto è molto caro e come terzo gioco andiamo su the last adventurer questo gioco è un gioco apocalittico abbastanza inquietante cioè devo dire veramente abbastanza inquietante veramente molto inquietante ho fatto un video a riguardo su questo gioco se volete andarlo a vedere il link è in descrizione mettete pure un mi piace se volete ecco qua siamo su the last adventurer un gioco apocalittico con degli zombie anche abbastanza che lenti non sono molto cattivi il gioco non è un gioco come dire un gioco che è senza trama ha una trama infatti se vedete c'è il personaggio che legge che ci scrive questi sono gli zombie sono letteralmente simpatici adesso non ci... ah porca sozza porca mi sono spaventato scusate perché non mi avevo preso le cose vabbè il gioco la grafica dobbiamo dire è abbastanza anche abbastanza carina il gioco è un open world beh non tantissimo open world ah questi sono i colpi e si spara a questi esseri orribili se riuscissi oh ok per android e per ios passiamo al quarto gioco hopeless 3 cioè credo si chiama hopeless 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 non so l'inglese ragazzi oh non so l'inglese allora non giudicatemi hopeless 3 si tratta di questi personaggini simpaticissimi questi qua questi ticchis hanno paurissima hopeless 3 perché che si basa che ci sono dei hanno paura perché ci sono dei mostri orribili che ci vogliono ammazzare noi dobbiamo andare da un posto all'altro senza essere uccisi da questi terribili mostri come adesso vi mostro ecco noi siamo in questa piccola nave ci sono questi esseri che ci vogliono far fuori però non dobbiamo e noi dobbiamo sparargli però non dobbiamo uccidere oh no perché ho aperto ci sono questi ragni pieno di mostri sempre più avanti più vai avanti più ci sono mostri dovete stare attenti a non uccidere i piccoletti per esempio oh quanti non dovete questi piccoletti qua perché se li uccidete perdete per esempio vita adesso è pieno di gente qua e come quinto gioco andiamo su pizza oh è un gioco un po' simpatico buona pizza grande pizza eccola qua un gioco veramente molto carino con la televisione pure siamo dei venditori di pizza e c'è questo cattivo che è il nostro amico cioè il nostro come dire il nostro vicino di pizza che è un pezzo di M gigantesco e noi dobbiamo vendere la pizza carne e mozzarella senza salsa ecco qua ecco che ora gliela faccio subito come sesto gioco The Galaxy Survivor un gioco però questo gioco purtroppo è a pagamento nella Unity che bello ma dai non lo sapevo non me lo ricordavo un gioco a pagamento multiplayer e single player sound update non lo so che cos'è setting e si tratta di sopravvivenza di questo mondo strano dove ci sono degli esseri cattivi ecco ecco siamo nel gioco dobbiamo sopravvivere in questo posto con una grafica che si può parlare veramente abbastanza carina e mi è apparsa una roba gigante abbiamo delle armi possiamo sopravvivere con queste cose tutte abbiamo qua per costruire infatti adesso sono già andato abbastanza avanti miserabili ste rocce mi distruggono le cose abbiamo i letti che è stata presa da questa roccia gigante e anche una bellissima macchina la grafica è abbastanza carina non c'è trama è abbastanza però dopo forse potrebbe annoiare miserabile verme e come settimo gioco siamo su Browmanters un gioco multiplayer online e non me lo ricordo se è anche offline però si tratta del gioco che dobbiamo sconfiggerci come la piccola animazione veramente molto carina dobbiamo adesso siamo nel tutorial dobbiamo sconfiggere e uccidere i nostri nemici un tiro per uno mi sembra ah no quando lo colpi ma quanti tiri non me lo ricordo quanti tiri dobbiamo riuscire a uccidere il nostro nemico ah se noi sbagliamo tocca al nemico qua c'è la vita e dobbiamo riuscire a distruggerlo ovviamente se noi per caso sbagliamo tiro eh infatti per vabbè siccome l'abbiamo ammazzato abbiamo vinto lo stesso però se lui per caso non avesse ancora vita toccherebbe a lui ci sono tanti personaggi per esempio lui cioè lui è il mago carinissimo mi piace tantissimo ora andiamo a provare veramente molto mi piace sto gioco proprio per i personaggi la grafica veramente molto bella ovviamente e ogni personaggio ha il suo potere per esempio dove tiro qua adesso è pam l'ho mancato infatti l'ho mancato e come ottavo gioco siamo su the level that level again 3 un gioco con una grafica bellissima che cos'è ma ah story eccola qua la storia con una storia anche molto carina un gioco come dire è un po' un po' labirintico perché dobbiamo anche trovare le chiavi è abbastanza è molto bello perché qua ci sono le scritte e non inizia il gioco oddio è assurdo il gioco no no ho appena sbagliato try again no sbagliato è pieno di cose assurde sto gioco dobbiamo riuscire a fare cioè dobbiamo è una cosa che fa impazzire perché questo gioco è stranissimo fa impazzire la gente cioè dobbiamo riuscire a trovare l'idea di come fare no ho sbagliato per esempio adesso facciamo così no non c'è un modo è come ottavo gioco Struct ah è così il gioco Struct è un gioco online adesso lo starete forse vedendo un po' storto forse perché vabbè dove possiamo creare i giochi veramente è una cosa molto carina che a me piace tantissimo qua si possono creare i giochi ovviamente questo gioco qua ci sono tutti i personaggi dove possiamo scegliere ok ho toccato qua ci sono i caratteri tutti i personaggi dove possiamo scegliere aggiungi elementi e ce lo troveremo qua qua ci saranno tutti i personaggi dove c'è il gioco ovviamente qua ci mi sta facendo il tutorial però io lo conosco già sto gioco da ben po' soltanto che l'ho appena scaricato stranamente però lo conoscevo già dove possiamo giocare qua possiamo cancellare ed è anche abbastanza che mi piace veramente gioca qua gioca ci abbiamo ovviamente adesso il gioco è così non l'ho creato io però possiamo inventarcelo come vogliamo possiamo essere anche in prima persona però adesso non lo voglio e come ultimo gioco il mio preferito Power Over non me l'ho ricordato scusatemi un gioco con una storia io ci ho giocato veramente tantissimo dobbiamo schivare i muri siamo per esempio come degli skate e dobbiamo superare questi ostacoli ci sono molti livelli con una storia anche e ci sono anche queste pile che non so che sono le monete ed è veramente un gioco che io ci ho giocato tantissimo un bellissimo passatempo veramente molto molto bello che è anche abbastanza carino la grafica si può anche parlare abbastanza carina è un gioco del futuro mi sembra attenzione non dovete andare fuori perché potete morire infatti vedete non dovete stare attenti poi qua come funziona poi qua si sale ed è anche abbastanza carino veramente mi piace tantissimo ah sono tutto bagnato vabbè spero vi sia piaciuto questo video e che vi siano piaciuti anche la mia top 10 giochi non l'ho mai fatta ho pensato di farla siccome avevo 10 giochi che la maggioranza delle persone non conosco non conoscono non conosco che non conoscono siccome io ho a me piace andare a cacciaggiare un po' nel play store e siccome ho visto che a volte io non trovo giochi nel play store ma io di solito cerco su youtube una top 10 e nessuno mai ha messo questi giochi vabbè nessuno mai qualcuno sì cioè sinceramente qualcuno sì però io non lo so io non li ho ancora visti però spero vi sia piaciuto perché scrivete nei commenti quale gioco vi è piaciuto di più iscrivetevi al canale per favore che siamo al 70 qualche iscritto non me lo ricordo più sono un po' così e niente ciao ciao